Ora passiamo dal segretario a uno dei due presidenti di Progress, Sandro Ghiani. Ora passiamo dal segretario a uno dei due presidenti di Progress, Sandro Ghiani. Ora passiamo dal segretario a uno dei due presidenti di Progress, Sandro Ghiani. Ora passiamo dal segretario a uno dei due presidenti di Progress, Sandro Ghiani. E' bello andare all'estero, specialmente quando si andava all'estero, è bello venire all'estero. L'italiano si può andare all'estero, perché l'italiano si può andare all'estero, cosa bella, che a volte è più difficile andare all'estero. Se ero sai che stiamo, è se ero invece se detta o lo vistevo. Se volete contare un paio di quelle, poi non dovevo vivere troppo tempo, ha l'intervento. Se ero qualche difficoltà, inizia, l'intervento di prima, bella scemi, ha la giovo, ha l'intelligente. e poi una persona meravigliosa, apposte, perché questa è la micaramurgia, che ciò che si è a me, se c'è la difficoltà, però sicuramente il suo compito non è troppo difficile, ciò che mi dà dentro, il suo compito è adesso di spiegare in Pagoscio e Bruso il progresso, il progresso è stato partito, è stato partito gioco di Pagoscio con questo uomo di tre anni di vita, è nascito, non è nascito, è nascito di un percorso lungo, è nascito di mille idei dell'indipendentismo che in Sardegna sono presenti di ora, sono presenti di ora, sono presenti di ora, sono presenti a Pagoscio, sono presenti a Pagoscio, sono presenti a Pagoscio, sono presenti a Pagoscio, sono presenti a Trevescio, non c'è tanti, però sono presenti a Pagoscio. L'ultima generazione, sempre recentemente, secondo me, è stato il indipendentismo di questo e poi, l'ultima generazione, non c'è rinascita, non c'è rinascita, non c'è rinascita, non c'è rinascita, ci c'è rinascita. Ora ci sta rinascendo, ci sono delle cose che è crescente, è crescente le idee, è crescente, se comprendo io, non è proprio quello che vuole domare, non è proprio quello che vuole, fai a pensare a scarabierci, se no vengono timidi, e quindi non conviene a doverle. Poverto abbiamo cambiato, e ora, in un modo di sapere, che chi è indipendentista non è, pensa che a ponere la Sardegna sul centro del pensamento cosa è, è una cosa giusta, ben fatta. Si pensa che dopo aver risolto il problema nostro non dovrebbe uscire, non dovrebbe essere sul disposizione di una nazione che si può trovare sui mari. che si può trovare sui mari, che si può trovare sui mari, che è addirittura acqua internazionale. Se io pensavo che andavo a Sardegna a Cività Vecchia, si usa sempre l'Italia, e invece io, con il diritto internazionale, un po' bello diretto si usa Foras, ci si usa. E non ho effetti per il diritto internazionale, è in realtà che ci si usa Foras. questo poi torna a questa cosa sul partito e Dio è che ci ha rinascito anche il Zai. E anche io, che è proprio il suo disposizione, che ha difficoltà a comprendere, cambia il registro. Il Zai sa male, io non mi comprendo. tanto se c'è oggi. No, no. In questo due o tre anni, il suo partito è crescio. È crescio di un mero. Questo sarà il gioco di Dio, perché questo è il partito fatto proprio in gran parte di Dio. L'anticiperebbe a me, io non ho bisogno di andare a finire le mani. In realtà, se hai un progetto, è proprio un gioco, o un gioco. Ma, certo, non guardate nemmeno, oggi è già nemmeno, che appada a chiudere, a chiuderebbe da un'eserciza e da un'eserciza per i posti politici, come si usa i partiti italiani. A chiuderebbe, però, a fare esperienza, a imparare, a comprendere, ma è la Santa Colio. Ho bisogno di un po' di specie, ho scelto due fonti, ho studiato il Vorasa, ho bisogno di un commentare per il mondo, e ho chiesto sul desiglio bruciorti di tornare in Sardegna e di cambiare le cose, fanno un progresso, non fanno un progresso. Io spero che andassi ancora a me e a San Foras e che è accostante in questo tempo. Questo indipendentismo moderno è il primo d'otto, non vi ho tentato. Cioè non credi che questa cosa sia per cambiare boccendo a tre gente. La rivoluzione, adesso penso che è un bello fuori, dopo che ho tornato, ho avuto un cambiamento complessivo totale, dal punto di vista. Ma che implica che ho bisogno di fare vorreste metà i dischi viventi in Sardegna in casa del nostro non è stata una grande idea. Il nostro non si è braggio. E quindi la prima cosa è il suo metodo che cambia. L'altra cosa è proprio il suo punto di vista. La Sardegna ha caratteristica sua. Non credo che il Sardegno sia un'altra razza, non credo che il Sardegno sia un'altra razza, che non è un'altra razza, non è un'altra razza, ma non credo che il Sardegna sia un'altra razza. E quindi il Sardegno non è stato nascito in Sardegna, è il Sardegno che ci vuole vivere, e soprattutto il Sardegno che ha subito in Sardegna. Come poi vuole vivere in Forza, vuole vivere a Intra, vuole fare un mestiere, vuole fare altro. Però che il Sardegno sia un'altra razza di Sardegno, se vuole vivere in Sardegno, è Sardegno. Ma anche io non credo che il Sardegno sia un'altra razza, non importa, non parla. Che devi andare a pregiare. Tu comprendi che devi andare a pregiare. Che io devi andare a pregiare a comprenderci il Sardegno, non è che devi andare a pregiare a comprenderci che tu stai. Come è un po' di questo italiano, sono proprio cose. A me devi andare a pregiare a comprenderci, che vieni a se tagliare e riuscire a guardare. Poi mi devi andare a pregiare a comprenderci che tu stai. e qui non ci fai, dai. E vado a prendere altre lingue spure. L'altra cosa è che, se da forza, non tengo il suo tempo, se posso spiegare meglio il tuo progresso, accostare i due, leggere le cose che scrivono, guardate l'internet, eccetera, non hai un'idea migliore. Questo è un bello trucco, se tu stavi, se discuti, se puoi fare una discussione, se puoi fare una discussione, se puoi fare una luta. Però questo è un luogo che stavi, se non devi andare a pregiare, se non devi essere di consapevolezza. Se non invece hai ancora, quando avrei che vuoi, questo è un po' di progresso, hai riceverato, Michela Morgia, come è stata candidata, un po' di silenzio, e hai riceverato, devo andare a solo, ma devo andare allargando, e poi ho appicato sui uomini, che a me mi bravano in me, da Sardegna possibile. questi italiani, ma non è proprio Sardegna possibile, senza Sardegna. Poi ti ho riceverato a Michela Morgia, ma un motivo semplice, quasi banale. Poi davvero, in questo momento, quando sei scostato, sono usciti i conti, io non ho partecipato, se sei lezioso, non ho partecipato. discussione che durava un certo tempo, se non ho deciso, se sei certo, se sei un partito, partecipato, non l'ho detto, se sei un partito, ma che altro sapea, che devo salvorza, che devo avere un progetto pronto, che devo avere un'idea, partecipato. Se devo ancora crescere, se devo ancora troppo vittime, se devo caccia troppo strada e vai, se devo a treballare, rettaus, non ho discutito, vai, se la maggioranza del suo partito, ha deciso, partecipato, su tempo, e stare in paio, se cosa sta andando, è accimato in Sardegna, non per il gruppo Aosta, non per il gruppo Sardegno, che dobbiamo partecipare. Se io cresciuto abbastanza, se a forza, pensavo di dare, tanto, se ti avrai, se io scomento che gioca la carta, se io dovrei vincere, gioca la carta a milo, schedevi. Puoi parlare, che a giocare, non posso andare, con delle cose, non posso andare, perché sono diversi, le carte a giocare, però, se sei usato, facilmente, non c'è stato bisogno, di fare grandi selezioni, e non, se sei un greggio, che segue il pastore, se sei un partito, che ha dedicato, a buona parte, se esistenza, cosa sua, a cercare, comprendere, commenti, si vuole, differenziare, commenti, potete essere diversi, devi partire, italiani, mazardosi puri, che hanno incosti, che io sono, per esempio, di Italia, di questi partiti, che si identificano, con il sabato, tanto, che devono, che sono mai feste, su un uomo, diventa, su un uomo, il suo partito, diventa, su un uomo, il leader. progress, non è il suo partito, di emoz, anzi, è il suo partito, di tutto, su un uomo, di 20 parti. E che Michela Murgia, oggi, questa candidata, di questo partito, è poi, che Michela Murgia, vorrei, pensare a questa cosa, non pensare a questo partito, pensare a questo partito, su, in suo senso, che è il suo partito, che è di Braggio, che è il suo partito, che è di Severo, non il suo partito, che è di parte, di proprietà privata, non è un leader, non voglio andare a uomo, se non mi braggio, non mi fa il fastidio, se non mi braggio, se non mi ha fatto la televisione, che andrò su un tendo, ultimamente, non si spazio, ma non è questo tipo di leader, che vuole essere leader, pensare, c'è gente, dimissione, che si presenta, alle istituzioni, che è giustata, non sono questi, parlamentari, che si dimittano, o che è stato il suo governo, che si dimittano, che deve presentare, dimissionare il suo Presidente, sul governo, non, non si presenta, sono i miei, cosa che succede, in questo partito, tanto, io si candidato a Michela, per questo motivo, poi, Michela, si candidata, non, al vice re, dell'Italia, ma, a governare, questa Sardegna, a dirigire, il suo governo, questa Sardegna, chi si candidata, a fare, il vice re, dell'Italia, che rappresenta, il re, non, subopodo, che rappresenta, chi adora, non subopodo, non subopodo, che rappresenta, chi adora, non subopodo, non subopodo, tra i leis, che deve usare, rispetto ai, se oso, che, a interiare, questo quadro, possa fare, il suo massimo, può subopodo, a Sardegna, in questi 4 anni, questo è il suo motivo, che, poi, si ha fatto, che verrà Michela. Oltre, che stiamo a vincere, tagliamo, ma dopo, a fare, la prossima, orta, grazie.